Non è riuscito a mettere insieme una maggioranza e per Benjamin Netanyahu, leader dell'IQD accusato di corruzione, fallisce il secondo tentativo di formare un governo. Una battuta d'arresto che conclude qui il mandato ricevuto quasi un mese fa dal presidente israeliano Rivlin, nell'attesa di una nuova fase. Da quando ho ricevuto il mandato ho lavorato incessantemente, sia apertamente che segretamente, per formare un ampio governo di unità nazionale. Questo è ciò che la gente vuole, quello di cui Israele ha bisogno, alla luce delle sfide sulla sicurezza che stanno crescendo ogni giorno e ogni ora. Adesso il compito passa al rivale Benny Gantz, ex capo di Stato Maggiore, alla testa del partito centrista Blu e Bianco. 28 i giorni di tempo per delineare un esecutivo, provando a mettere fine a più di sei mesi di stallo politico. Una strada, quella verso la maggioranza, che secondo gli analisti potrebbe essere in salita. Grazie. Grazie.